La scuola di musica La scuola di musica è un punto di incontro per i giovani, i bambini e anche quelli non più tanto giovani che vogliono incontrarsi e studiare musica, imparare e conoscere questo ambiente sia per divertimento che per professione. L'attività principale della scuola di musica è appunto l'insegnamento di vari strumenti dai classici ai moderni, cioè di tutto naturalmente fino anche al canto. All'interno della struttura ci sono anche due sale prova che vengono ovviamente date ai ragazzi e alle band della città dove vengono a provare e preparare i loro concerti. Ci sono anche due sale che vengono affittate a una scuola di danza e a varie altre attività tipo il karate e cose di questo tipo. Ho iniziato a insegnare qui ad agosto del 2009 ma in realtà io mi sono sempre sentito parte di questa scuola perché ho frequentato anche i corsi di perfezionamento del maestro Massimiliano Ferrati e soprattutto ho scelto questa scuola qui sempre come luogo di mia preparazione per gli eventi che mi riguardavano come i concerti e le prove con gli artisti con i quali lavoro. Faccio un esempio, purtroppo noi pianisti abbiamo spesso e volentieri il problema che non possiamo studiare senza arrecare fastidio ai nostri vicini e mi è capitato appunto dopo l'ennesimo screzzo di dover prendere la decisione. Ho preso questa decisione di portare il mio strumento qui in uno di questi saloni e utilizzare questa come mia unica struttura per quanto riguarda appunto il mio studio. È praticamente un po' la mia seconda casa. Ecco questo per quanto mi riguarda il valore aggiunto della scuola Microcosmos. È la mia seconda casa praticamente.